Ciao, oggi vi parlo del secondo volume della saga dei libri game Age of Vapor, dove la protagonista è Alice Key. In questo caso abbiamo Alice Key e il progetto finisce, scritto sempre da Antonio Costantini, 490 paragrafi ed edito da Edizione Librarsi. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. Il regolamento riprende esattamente quello del primo volume, avete un valore in salute che non deve mai scendere a zero o meno, avete un certo numero di dadi che dovrete lanciare per superare le prove e i successi sono solo i valori di 4, 5, 6, quindi più dadi lanciate più otterrete successi e poi avete un valore di vapore che potrà salire nel corso dell'avventura e vi dirà quanto siete bravi all'interno di questo universo. Chiaramente poi avrete la possibilità di selezionare le vostre abilità per definire meglio il vostro personaggio e ci saranno armi, equipaggiamenti, parole chiave eccetera da assegnare, ma soprattutto un punteggio di aggressività che potrà salire e scendere nel corso dell'avventura. Perché sono andato così veloce con il regolamento? Perché secondo me è fondamentale aver letto il primo volume della saga, ovvero sia Alice Key e l'origine del mondo. Non tanto per un discorso di confidenza di regolamento e di ambientazione che sicuramente fa una grossa parte, ma perché vi portate avanti tante cose che avete scoperto nel primo volume. Ci sono state delle rivelazioni sensazionali, tra poco ci arriveremo, ma soprattutto avrete conlezionato delle parole chiavi, delle conoscenze, delle competenze che vi serviranno per partire con il secondo volume. E vi dico che davvero quello che avete vissuto nel primo volume si ripercuoterà molto bene nel secondo, quindi alcune scelte vi daranno delle strade più facili e allo stesso tempo più difficili in altri punti, oppure comunque avrete degli incontri differenti a seconda di come vi siete comportati nel primo volume. Con questo non dico che c'è un metodo migliore per completare il primo volume, vi dico solo però che se avete voluto dare un'impronta alla vostra eroina o comunque alla vostra storia, questa si ritroverà molto bene in questo secondo volume. L'ambientazione è sempre questa, Londra o comunque sia questo mondo, in cui si sviluppa tutto grazie alla potenza del vapore e Alice si muove all'interno di questo mondo, ma stavolta ha una consapevolezza in più, ovvero sia conosce di più del proprio passato, conosce bene chi è, che come mai è diventato in questo modo, non posso rivelarvi troppo se non avete letto il primo volume, ma soprattutto avete potuto parlare con vostro padre, avete scoperto qualcosa di più. In questo secondo volume vostro padre è nuovamente scomparso e dovrete correre alla sua ricerca, ma in questo secondo volume oltre al vapore c'è una nuova forma di energia che sta prendendo piede e voi sarete proprio al centro di queste scoperte. Vabbè questo ve lo posso dire, la nuova fonte di energia è l'elettricità e voi per capire più informazioni, perché adesso sapete chi siete ma non sapete perché siete arrivati in questo modo, diciamo che cos'è questo progetto finisce che si nasconde dietro al vostro passato, andate a lavorare proprio a stretto giro con una persona, un inventore che ha molto piede all'interno dell'elettricità. Insomma è una personalità davvero molto importante da questo punto di vista e mi ha stupito molto e mi ha fatto allo stesso tempo molto piacere poterci lavorare fianco a fianco. Ci sarà quindi una prima fase di indagine in cui dovrete muovervi con molta accortezza all'interno di questo mega laboratorio, dovrete cominciare a prendere conoscenze, muovervi con circospezione e piano piano ottenere nuovi permessi per muovervi sempre più in là, per arrivare sempre più vicini al progetto finisce. Una volta poi apprese delle nuove informazioni sul vostro passato, troverete il modo di muovervi ancora per il mondo, come è successo nel primo volume, vi sposterete ancora lontanissimo nel mondo, conoscerete nuove persone che hanno comunque avuto a che fare con vostro padre, con il vostro passato e qua vi dico che ci sono anche delle grosse sorprese, per grosse sorprese intendo che se sceglierete una di queste direzioni, troverete delle vere e enormi sorprese ad aspettarvi. Tutta la narrazione poi è corredata da diverse citazioni del mondo cinematografico, scientifico eccetera, ma ci sono anche sparsi diversi enigmi. Sono enigmi diciamo di livello medio complesso, ovvero sia troverete abbastanza facilmente una chiave per cominciare a smontare l'enigma e andare alla risoluzione, però vi dico che non potete fermarvi al primo strato, troverete una prima soluzione che non vi soddisferà e dovrete fare un qualcosa in più. Diciamo la prima soluzione è la strada giusta, ma sappiate che dovete fare un passo in più, nessun problema, se gli enigmi vi spaventano, non ve la sentite, oppure a un certo punto siete davvero bloccati, in fondo al libro vi segnalo che ci sono sia suggerimenti che soluzioni per questi enigmi, quindi nel caso potete saltarvi e godervi solamente la parte di investigazione e avventura. E in più ci sono i micro giochi come appunto nel primo volume, dovrete preparare il vostro ambiente circostante per giocare fisicamente a qualcosa, a vedere qual è il vostro punteggio, vi dico che c'è anche un gioco in particolare che mi è piaciuto perché determina come siete bravi a battere una sorta di boss finale. Potete decidere chiaramente di essere bravissimi e barare e andare subito alla soluzione, ma provate almeno una volta a vedere quanti punti avreste fatto. In conclusione ci troviamo di fronte a un volume sicuramente più cicciotto rispetto al primo, in questo caso l'autore ha preso più confidenza con il mondo, con il personaggio e si è lanciato appunto in una narrazione che comunque riesce a tenervi a vinti fino alla fine. Vi segnalo che comunque l'avventura non finisce e in questo caso io speravo di arrivare a un punto chiave, invece si arriva a una sorta di super svolta, quindi quando pensate di essere davvero arrivati al dunque vi aspetta un nuovo e ultimo, spero, terzo volume. Con questo quindi capite bene che questa Age of Vapor è una saga che mi sta prendendo molto e ve ne consiglio sicuramente la lettura. Con questo non mi resta che salutarvi con un ciao e alla prossima! Grazie a tutti!